Buongiorno e benvenuti a Sette in Punto, un'altra mattinata dedicata all'arte, un'arte particolare basata sull'utilizzo di un materiale che francamente siamo abituati ad avere in cucina, ad avere nelle stanze da bagno, però un materiale, il silicone, che può diventare arte che arte. Per parlare di queste particolari opere ho qui con me questa mattina un artista, Luca Moretto. Buongiorno e benvenuto. Arte con il silicone, una materia, un materiale francamente, magari sì, molti artisti lo utilizzano come materiale di accompagno ad altri, ma invece lei lo utilizza, e proprio le sue opere d'arte sono in silicone. Come nasce questo amore per il silicone e proprio perché il silicone? Allora, il silicone è nato in modo casuale, nel senso che avevo di recente finito un corso di pittura e avevo lì delle tele pronte da iniziare a lavorare, ma non mi arrivava, a parte che ho sempre avuto l'arte astratta, il corso era un corso sul volto, non mi interessava il tema, però l'avevo fatto. Un po' sbagliato corso? No, l'avevo fatto perché comunque non esisteva, poi a Iesolo non è, è un po' ristretto, il corso era quello. Lei è di Iesolo? Sai di Iesolo, posso darti del tu? Sì, mi interessava il corso per imparare a usare i colori ad olio. Ero una sera in camera, perché la mia camera fa anche da studio, diciamo, perché è molto grande, e mi è venuto così un lampo, ho preso la pistola del silicone, perché stavo facendo, come dicevi tu, delle rifiniture, fatalità, e ho preso e ho iniziato a estrudere il silicone, all'epoca era nero, infatti se tu vai nella galleria del mio sito, nell'anno 2006, da quando ho iniziato, le prime tre opere hanno il silicone nero, solo nero, e da lì è iniziata questa cosa, ho iniziato le prime tre opere. Cioè hai visto che questo materiale era un materiale che ti dava delle soddisfazioni maggiori rispetto al tubetto di colore ad olio? Sì, diciamo che le prime opere, dal 2006 al 2012, le opere sono fatte sia di colore ad olio o acrilico, che silicone. Ah, hai mescolato. Erano mescolati. Quindi una pittura scultura, una pittura che si poteva toccare? Sì, tattile, sì, sicuramente. La cosa interessante era che nei lavori che avevo fatto in precedenza, avevo già avuto modo di conoscere i siliconi, e sapevo che esistevano colorati. Quando mi è piaciuta questa idea, finite le prime tre tele, ho iniziato ad acquistare un po' di tubetti, ma all'epoca era un 4-5, cioè non un 70-80 come adesso, e uso una gamma di colori veramente importante oggi. Ho iniziato a fare sempre più, a usare sempre più colori. Siliconi colorati che si trovano in vendita non a fine artistico? No, no, edilizio, è sempre parte, arriva dal mondo dell'edilizio. Per fare una bella, non è che esistono i colori per gli artisti in silicone, tu sei andato a prendere il silicone colorato che si usa in edilizia e hai detto adesso io voglio proseguire nella mia arte, nella mia sperimentazione. Sperimentazione. Sì, sì, infatti giustamente tu dici sperimentazione perché quello è partita da un punto per arrivare al punto in cui sono oggi, dove appunto dopo ti spiegherò anche quest'opera. Che si tocca, no? Sì, sì, si può toccare, si può... È la parte bella, quando tu le vedi esposte ti viene proprio da, soprattutto queste, ti viene proprio da metterci le mani, e la cosa bella per me, dopo ormai 12 anni da quando ho iniziato, è vedere ancora le persone che non conoscevano le mie opere, che si fermano, prima sorridono vedendo l'opera e poi vanno a toccare e rimangono... Cioè è bella questa sensazione perché vedi la mia, l'emozione mia, che ovviamente me la tengo in disparte, ma nel vedere queste persone che davanti all'opera si emozionano toccandola, è ancora una cosa che mi dà gioia, che mi appaga, diciamo. Posso dire, è sbagliato dire, che probabilmente il Sidecone è il materiale più confacente alla tua poetica artistica, alla tua espressione d'arte, che se ho capito deve essere un'arte tattile. Sì, no no, ci sta, ti dico una cosa in più, che c'è stato chi, analizzando il mio lavoro, ha anche interpretato il silicone nella parte mancante di me, ovvero che io ho bisogno di usare un materiale tridimensionale per compensare la mancanza. Ecco, spieghiamo ai telespettatori a che cosa ti riferisci quando parli di mancanza, perché l'esplosione della tua vena artistica è una reazione, non a caso abbiamo titolato la trasmissione Arte che vince, è una reazione ad un evento traumatico, un incidente di moto, se non sbaglio, e con conseguenze gravissime, l'amputazione di una gamba, anche una vicenda, insomma, abbastanza controversa, tant'è vero, tu parli di caso di malassanità, certificato anche da una causa in cui tu hai ottenuto il risarcimento, però all'improvviso tu ti sei ritrovato senza una gamba, e quindi la necessità... Diciamo che io ho deciso di amputare l'acqua, proprio ho scelto io, sì. Hai dovuto scegliere però, tra avere una gamba che non c'era e un... Ti posso dire che io ero ragazzino, però ci sono persone anche più grandi di me che non hanno il coraggio di farlo, è brutto questo, perché preferiscono, non superano... Sì, ma spiega perché hai scelto l'amputazione. Eh, perché io avevo su un piede che mi faceva schifo vedere, cioè non era più la mia... E ti faceva male? E mi faceva solo male. E non potevi usarlo? Non potevo camminare, mi faceva solo male, lo vedevo e mi dava fastidio, lo toccavo minimamente, bastava sfiorarlo e partivo con urli, e in un'altra parte la toccavi e non sentivo. Ho visto i medici operarmi senza fare l'anestesia, in una parte però della gamba, nell'altra era da impazzire, quindi era una situazione dal quale non si andava da nessuna parte. E hai deciso un taglionetto? Ho deciso di procedere con l'amputazione, anche perché sapevo che con una protesi avrei ripreso la mia vita, ma a me piace sempre spiegare che la mia disabilità per me non è la gamba amputata, perché io ti posso dire che senza una gamba tu fai... Poi non serve che te lo dica io, se vedi in televisione c'è... Abbiamo esempi... Eh vabbè, però fai un conto è, io credo che quando non ci sia miglior testimonianza di chi vive le cose, perché non si può, possiamo immaginare, possiamo probabilmente intuire, ma finché non le vivi le cose non si può, non si può avere consapevolezza piena. Nel momento in cui tu ti trovi senza la gamba la tua normalità parte da lì, cioè tu sei normale, la mia normalità è questa adesso, non è normale che io dopo 20 anni viva con dei dolori assurdi, terribili, perché io vivo ancora con i dolori, e questo è il problema, la mia disabilità è il male con cui vivo, che mi ha portato a fare decine di interventi, anche dopo l'amputazione, per cercare di mettere a posto, c'è stato proprio il casino fatto all'inizio, poi c'è stata tutta una serie di... E come mai non si risolve questa sindrome, che è una sindrome, no? Sì, sì, il sindrome dell'arto fantasma, e mi dichiarò il professor Borghi del Rizzoli di Bologna, che all'epoca aveva anche voci in capitolo, essendo il capo dell'associazione mondiale sulla terapia antalgica, mi dichiarò uno dei casi forse il più grave al mondo, ma non, cioè, al di là della gravità del dolore con cui vivo, ma anche della soluzione, perché bene o male non c'è una cura, non esiste una cura per la sindrome. Però non riesco neanche a trovare una terapia antalgica adeguata a te. Non ce n'è una precisa, ci sono dei vari step, provi questo, provi quello. Il problema è che io li ho provati tutti, arrivando anche a cose sperimentali, e siamo ancora fermi, nel senso che ogni volta poi che vai a mettere mani, il rischio è che il dolore aumenti, e purtroppo è quello che mi è successo più volte. Tu parlavi di... facciamo una breve digressione sulla tua storia, ma poi torniamo all'arte. Tu quando parli di terapia sperimentale ti riferisci alla cannabis anche? No, io per terapia sperimentale in questo caso parlo proprio di intervenire a livello neurologico, andare a mettere dispositivi sui nervi, a fare... No, perché sai che è un elemento, la terapia del dolore è molto discusso nel nostro paese, e anche qui è importante avere magari una testimonianza diretta di chi il dolore cronico ce l'ha, ed è persistente per capire come uno veramente alle volte le prova tutte. Ma guarda, io la proverei, se me la desse, è da maggio che la sto aspettando, perché è inutile far programmi in tv e dire adesso la liberalizziamo, ma se tu me ne dai 100... Sì, che poi è un uso terapeutico, secondo, certo. No, no, non parlo di quella... No, 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 chiaro, però ancora è sulla carta, è sulla carta. Cioè io ho dei farmaci comunque potenti, però quella che potrebbe essere un farmaco naturale non è detto che poi su di me funzioni. Sì, appunto, quindi non hai avuto ancora modo di sperimentare. Non ho potuto provarla. Torniamo all'arte, allora a un certo punto di fronte a questi dolori, uno trova un riscatto e quindi il silicone in qualche modo, diceva che qualcuno ha detto che in qualche modo rappresenta la tua parte, perché è solido, è saldo, è un materiale ruvido poi, no? Perché credo non sia facile lavorarlo. Beh, oddio, non è semplice, soprattutto quando inizi a fare cose come queste... Sì, appunto, che non ti si incollino le dita. Beh, oddio, quello capita, ogni tanto capita anche che ti sporchi, che fai... Però diciamo che è stata associata questa parte, essendo proprio un materiale tridimensionale, che riempie, diciamo, Certo, è materia pura. Alla parte che io non posso più toccare di me. A me piace dire che è nato questo uso da parte mia, proprio per creare curiosità nel pubblico, per avvicinare il pubblico a toccare e a vivere l'arte. Da lì poi, ovvio che io racconto la mia storia, ma mi piace vederci il lato positivo, tant'è vero che prima leggevi anche la mia frase... Sì, infatti, l'ottimismo può fondare le sue radici anche nel dolore. Esatto. Quindi le due componenti, la tua vena artistica, che c'era anche prima... Sì, c'era, sì. E, diciamo, l'incidente è stato un po' la molla. Sì, l'ha portata fuori. E' stato cose, noi stiamo vedendo che il collega Andrea Verniera sta mandando in onda, trasmettendo appunto video, tratti dal tuo sito, cose molto intriganti, perché appunto questa tridimensionalità del silicone, abbinata comunque a mezzi in movimento, perché dei tuoi progetti, no? C'è sempre riferimento... Al mondo dei motori. Al mondo dell'automotive. E ci vuoi raccontare due particolari progetti interessanti? La Vespa e la Bugatti. La Vespa, la prima Vespa, era nata prima che io mi facessi male, e è la Vespa Pop, e la si può vedere solo nel sito perché non esiste oggi. È stata rifatta da zero, quindi facendo un progetto fatto con tutti i criteri, è stata fatta a nuovo, e lì ho fatto un lavoro proprio importante, sia nella parte di lavorazione, ma sia anche in quella di comunicazione. In breve tempo, ha fatto in tempo a partecipare alla Biennale di Venezia, quella di Vittorio Sgarbi, al Padiglione Italia. È arrivata dopo, ha partecipato a una fiera... Stiamo vedendo, infatti, la stiamo vedendo. Ha partecipato come testimonia la una fiera di un'azienda molto importante che fa scarpe, il MECAM di Milano, la fiera internazionale sulle calzature. Da lì è arrivata al Museo Piaggio, e per me era già un punto d'arrivo. Quello io ero già felice. Ma è una Vespa che va? Che funziona? Ah, beh, volendo. Sì, sì, è funzionale. No, perché è bella, cioè potrebbe essere prodotta in serie. Ah, beh, magari. Eh, beh, sarebbe... Beh, io credo che è bellissimo andare in giro con una Vespa così. Beh, guarda che c'è un signore di Madrid, mi sembra, o, beh, comunque in Spagna, c'è un signore che se l'è copiata. Gli ho dato la possibilità di chiamarla Vespa Venezia replica, perché è Venezia, Venezia. Certo. E se l'è fatta non uguale, identica, ma lui l'ha fatta aerografo mentre lo dipinta tutta a mano. Ed è quella la parte... C'è sempre la tridimensionalità anche in questo lavoro. Nel senso che c'è sempre quella parte di... che si tocca, insomma. Che si può toccare, esatto. Lui se l'è fatta con l'aerografo, però, cioè, non ti aspetti queste cose. Dopodiché ne ho visti altri due farsi qualcosa di simile. Uno ha fatto una cioffecca spaventosa, però lui l'aveva... Questo l'aveva fatto abbastanza bene, abbastanza fedele alla replica. Quindi nel momento in cui iniziano a copiare quello che fai, vuol dire che qualcosa di buono lo stai facendo. Tu prima, io fuori onda, ho detto... perché appunto ci sono opere di tutti i tipi, no? Abbiamo qui davanti al tavolo queste sculture o delle pitture che diventano sculture e colore che diventa materia. Io ti ho chiesto, ma per quanto riguarda gli oggetti, la Vespa piuttosto che le macchine, è una decorazione? Tu mi hai risposto, cioè, come il silicone, come la tua arte si applica a degli oggetti magari di uso quotidiano? Qui vediamo anche le sedie, eccetera, eccetera. E tu mi hai risposto parlando anche di messaggio di comunicazione. Sì, diciamo che non è decorazione perché la decorazione tende a sminuire. La decorazione è una cosa che tu fai magari anche in replica, che fai in velocità. L'arte ha un lavoro, ha un tema, tipo come può essere le macchinine, le bugatti. C'è un progetto anche aziendale lì dietro, quindi con un'azienda importante che fa proprio il silicone. Come può essere per la birra 32, ad esempio. Cioè, quella non è una decorazione, è proprio la creazione del logo, dove io all'interno del numero ho interpretato con gli otto colori delle otto birre con gli otto... Quindi l'oggetto diventa la tela? Per assurdo? Potrebbe essere la tela su cui tu dipingi? L'oggetto, penso alla macchinina, penso al telaio della Vespa? Sì, diciamo che la base è il mezzo, diciamo, l'oggetto, come può essere la tela. La parte artistica è quella che io vado a... Cioè, praticamente io do un apporto artistico all'oggetto, come può essere appunto la macchinina. Però non è decorazione, è arte. La decorazione prevede che di queste ne fai 10.000. No, 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 appunto. Questo è un pezzo unico. Esatto. È una cosa che molti mi chiedono, che io do per scontata, però molti mi chiedono, ma è un pezzo unico? Sì, certo. Io do un sì, come... Sì, questo era... Anche la macchinina, piuttosto che la Vespa, diventa un pezzo unico. Però, sai, è importante specificare, no? No, perché uno, se tu, non so, oggi si personalizzano, no? Sì, sì. Anzi, l'oggetto diventa arte. Sì, è vero. Però non è chiaro, sembra che sia una decorazione. Sì, è vero, è vero. In realtà è un... E perché hai questa propensione? Non so se è perché te l'abbiano richiesta, perché mi raccontavi anche un po' la storia, no? Di come man mano ti stai anche facendo strada nel mondo dell'arte. Prima tu citavi una azienda produttrice di silicone, che credo sia il marchio più importante nazionale, che ti ha cercato direttamente per acquistare un'opera senza palesarsi. Sì, è stato bello. Adesso siamo amici, però mi ha fatto piacere, proprio perché lui non si è presentato all'epoca, mi ha detto, vorrei vedere qualcosa di suo, ha comperato e dopo ho capito chi era. Per me è stata una soddisfazione immensa, perché nel 2008, quindi già da due anni che avevo iniziato a fare questo lavoro, iniziavo a dire, pensa che sarebbe bello se quell'azienda lì, che io mi ricordo che usavo in passato, potesse interessarsi, ma ne è arrivata una seconda che ha la sede proprio qui a Padova, che addirittura è una multinazionale. È un po' meno conosciuta in Italia, però è un'azienda molto importante. Da lì poi sono arrivati altri progetti. Questa cosa è una cosa che a me piace molto, tra l'altro, l'idea proprio di collaborare con le aziende. Infatti io dico sempre che se anche un giorno avessi una galleria, un gruppo di investitori, vorrei esserci comunque, perché sai che l'artista, io sono un artista anomalo, partiamo da questo punto, perché a me piace creare l'opera, però l'altro 50% del mio lavoro è promuoverla, fare la comunicazione. Mi piace proprio il fatto del comunicato stampa, di avere, sono qua direttamente a Odessa. Ma volevo chiederti, questa è l'importanza della comunicazione. È importante la comunicazione perché in qualche modo la tua arte, secondo te, è qualcosa che piace, che diverte? Perché potrebbe sembrare anche un gioco? È molto comunicativo. O perché hai bisogno di comunicare tu un messaggio specifico? Allora, il bisogno mio è quello di comunicare un messaggio di positività, nonostante viva col male e abbia subito l'amputazione. Però la tua è un'arte gioiosa, si vede gioiosa. Ma infatti nei primi anni mi dicevano, ma tu parli di dolore, perché avevo già delle interviste ancora i primi anni, però poi uno vede le tue opere, sono tutte colorate. Sembrano dei giochi, attirano. Non metto nell'opera quello che è il mio dolore, se no sarebbero tutte nere, metto quello che io ho sempre avuto dentro e che grazie all'arte ho potuto tirar fuori, perché quando ho iniziato a lavorare, io ero in una buca totale, ero in crisi depressiva, stavo male, non avevo più la mia vita, non avevo più la mia vita di prima e non capivo, non riuscivo a trovare una via. Quindi attraverso il silicone ti sei rincollato alla vita? Attraverso l'arte e anche il silicone. Mi ha dato la possibilità di fare qualcosa di nuovo, che non c'era, che ho inventato, per fortuna, e questa è una soddisfazione, e che sto continuando a portare avanti. Ci fu molta manualità per... Eh sì, sì, però è una fortuna che ho avuto anche questa. Avevo fatto anche delle scuole, non le ho finite, però avevo fatto scuola di oreficeria quando ero ragazzino. No, la manualità è una cosa che ho sempre avuto. Prima dicevi una cosa, che mi piace produrre arte in relazione alle aziende. Cioè non vuoi che sia una pura esposizione in una galleria, ma che sia qualcosa che si possa toccare e che possa essere abbinata anche alla quotidianità. No, allora ci sta la galleria, ci sta tutto, perché... Certo. Però la parte bella che mi dà proprio soddisfazione è che oggi sta dando valore al mio lavoro, perché fino ad oggi una vera e propria galleria di un certo livello non l'ho avuta, ho avuto qualche esperienza, ma ad oggi sono le aziende, e il fatto che le aziende collaborino con Luca Moretto, che danno a me l'illustro, diciamo, di dire... Guarda, l'azienda... Ti facciamo l'esempio... Però secondo me c'è anche, scusa se mi permetto, la volontà che queste opere d'arte siano diffuse, cioè che tutti possano in qualche modo avere... E per diffondere oggi l'opera d'arte deve essere anche funzionale, no? Perché siamo tutti pieni di soprammobili, però deve avere una funzione, quindi... Oddio, l'arte... No, sai qual è la funzione dell'arte? E te lo potrebbe dire chi le mie opere le ha acquistate e ce le ha in casa. La funzione è quando un tuo collezionista ti dice io mi alzo al mattino e prima di uscire da casa vedo l'opera e vado a casa, vado fuori con il sorriso. Cioè secondo me non c'è... Basta, io quello che dovevo fare... Perché io nel momento in cui ho fatto quell'opera che lui ha a casa, l'ho scaricata da me, nel senso ho scaricato l'opera, l'ho fatta, io penso a quelle che verranno in seguito. È lui che ce l'ha e se la gode tutti i giorni. E la soddisfazione sua, quindi del collezionista, del cliente, dell'amico che l'ha acquistata, è vedere che quando arriva qualcuno a casa sua si impallina lì davanti o vuole andare a mettere la mano. Quindi lui si sente di dire cavoli, ho comperato comunque una cosa che piace a me. Però le tue opere si possono toccare, non sempre, no? Alle volte, se tu, non so, supponiamo un quadro, uno si avvicina, ti arriva una bacchettata. Quindi c'è anche la volontà. Sì, sì, assolutamente. Vedo delle sedie, in queste sedie uno si può sedere nelle tue sedie. Sì, perché il lavoro è fatto... È solo una sedia quella. Ah, ok. Solo che nella foto... Però io mi posso sedere su questa sedia. Sì, perché il lavoro è sotto. Vedi, e quindi c'è anche la volontà... Ma l'arte, la mia arte deve vivere. ...che l'arte sia vita. Sì, sì, ma io ho piacere, quando qualcuno vede... Anche qui il marchio della birra, poi alla fine può diventare anche un sottobicchiere, no? Eh, vediamo, speriamo che si possa fare qualcosa, adesso che con l'anno nuovo c'è l'idea di cambiare un po' la comunicazione in azienda, vediamo se vogliono usare l'opera mia come... Vabbè, a me farebbe piacere, anche perché vendono in tutto il mondo. Rimane comunque un micro birrificio, però, che vende in 28 o 30 paesi nel mondo, insomma, quindi... È un'arte contemporanea la tua. Perché il colore è molto... Insomma, potrebbe sembrare pop art, no? Sì, sì, mi associano, sì. E la pop art, intesa non nel senso di arte diffusa, che c'è, ma anche di gusto estetico, di bellezza. Mi danno anche del designer a volte. Sì, beh sì, indubbiamente c'è anche questa sfumatura. Quanto è importante il colore per te? Eh, tanto. Mi permette di parlare. Ma poi, comunque, quando vedi un'opera così e mi conosci, vedi che poi è quello che io tiro fuori. Poi, chiaro che se mi vedi nel momento in cui sto soffrendo dal dolore, vedi che sto male. E purtroppo quello è durante tutta la giornata, perché ho sempre i momenti in cui ho le fitte, ho i dolori. Però quello è quello che io sono. Io dico sempre, le mie opere sono quelle che io ho qua. Avevo bisogno di tirarla fuori questa cosa. A me, io dico sempre, ed è importante questa frase, che l'arte mi ha salvato la vita. Ma non è una frase... Non è una retorica, dici? Eh no, neanche un po'. Che tipo di riscontri stai avendo? Perché questa è una forma espressiva d'arte che può piacere, io penso, non so, al MoMA, a questi musei di arte contemporanea, penso anche all'M9, che è un museo in continua evoluzione. Questo è un... in qualche modo tu rappresenti un po' una visione moderna di arte, fatta di sperimentazione, fatta di utilizzo di materiali inconsueti, anche materiali poveri, no? Materiale comune, ma no. Beh sì, il silicone è un materiale povero. Ecco, come stai vedendo questo tuo essere un po' un pioniere di questo genere? Beh, sicuramente è quello che fino ad oggi mi ha dato la spinta per andare avanti anni, perché tu sai benissimo che l'artista fa molta fatica. Allora, io mi considero fortunato perché comunque faccio quello che piace a me e do un riscontro che è veramente importante, e lo vedo quando ci sono gli eventi importanti, che quello che faccio piace. Quindi questa è già una cosa importante. Perché mette di buon umore, perché diverte, perché si può toccare, perché... Perché ha quella parte ludica, sì, perché ti fa ripensare a quando eri bambino, a queste forme, a questi colori. E mi sono perso con la domanda che mi avevi fatto su... Che cosa... che riscontri stai avendo? Ah, ok. I riscontri che io ritengo importanti, che ti dicevo, è quello che mi ha dato la forza fino ad oggi, è vedere, ad esempio, gallerie importanti che iniziano a seguirmi su Instagram, sui social network, vedere comunque un certo tipo di persone che si approcciano a quello che faccio. Secondo me questi sono dei segnali, perché vuol dire che stai creando interesse anche verso... Ti senti pioniere di una nuova forma artistica? Beh, diciamo anche di sì, nel senso che queste cose prima non c'erano. E questo mi viene comunque attribuito. Una delle cose più belle che mi sono state dette da una persona che aveva voce in capitolo, quindi una gallerista, che continuava a dirmi, no, perché quello che tu fai è bello, è carino, a un certo punto ho detto, ma mi spieghi, perché io ancora non avevo capito, oggi, da pochi anni ho capito che quello che sto facendo ha una forza comunicativa, ha l'arte dentro, io lo facevo per me stesso, l'arte è iniziata per star bene, per star bene, ma... Beh, era in qualche modo inventato un nuovo genere, che poi... È diventata arte, per me è diventato un lavoro nel 2010, infatti io considero dal 2010, prima era qualcosa per me. E questo fatto che questa arte in qualche modo sia diventato un lavoro che cosa ti senti un po', è una soddisfazione, è una molla? Eh beh, sì, assolutamente sì. Difficile, perché comunque l'arte è un lavoro difficile per tutti, però ti dà veramente la soddisfazione. A che progetti stai lavorando adesso, se puoi svelare qualche anteprima? Ma io avrei dei progetti che sono lì fermi già da un po' di tempo e mi piacerebbe fare la nuova Vespa Venice, che è basata sul modello della 946, mi piacerebbe fare una 500, ci sono un paio di aziende con cui sto cercando di far partire un progetto. Sempre le motivi motori? No, no, non solo, no, no. No, anche su questo mi piace spaziare, ad esempio, vedi, mi piace che l'azienda si approcci all'arte anche come mezzo di comunicazione e che sia funzionale poi, quindi non per forza, c'è addirittura, vabbè, non diciamo niente. C'è un'azienda che fa delle cose in silicone che mi piacerebbe provare a contattare, vedere se di riuscire a fare un progetto insieme, ma in questo momento purtroppo sono concentrato anche sui problemi. Ti senti di aver creato un nuovo linguaggio? Beh, oddio, boh, no, mi stai dando una responsabilità grande. No, chiedo, magari altri artisti si sono rivolti a te incuriositi da questo impiego, ti hanno chiesto come diavolo fai a rendere così, a maneggiare il silicone? No, no, mi è stato chiesto proprio da altri artisti che... Perché chiunque, scusa, cerchi di saldare dei bordi del lavandino finisce che fa un macello, cioè, quindi non è facilissimo, non è... No, no, sì, è vero, è vero, mi è stato chiesto proprio da artisti, però se permetti la risposta no. Cioè, mi sono venuti a chiedere dove lo compri e dove trovi quello... Ragazzi, cioè io ci ho messo quattro anni per trovare il vostro... No, no, io chiedevo l'interesse, magari il mistero di capire... No, no, quello che hai detto tu io lo lascerei dire e poi in un futuro è un critico d'arte, non sarebbe... No, però, sai, io credo che anche sia... che si sia avventurato comunque in un percorso nuovo. Sì, quello sì, 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 beh, lo... Visto che sono otto anni che lo fai per lavoro, quindi c'è un riscontro oggettivo, no? Sì, sì, sì. Perché se non ti avessero commissionato dei progetti, sì, rimane una sperimentazione che ognuno può fare nel suo laboratorio di casa. Però c'è un riscontro... L'arte ha senso quando qualcuno poi la vede e l'acquista. C'è un riscontro oggettivo, indubbiamente. E ti piacerebbe, non lo so, visto che ci tieni tanto alla comunicazione, anche raccontare un evento, magari attraverso le tue sculture, le tue opere? Beh, perché no, sì, 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 ma io sono aperto a tutto. Mi piace e mi stimolano anche le cose nuove, quindi... In futuro sempre solo silicone o pensi anche a nuovi materiali inesplorati? Beh, non lo so, non lo so. Intanto andiamo avanti col silicone, ho già delle idee nuove su come fare delle altre opere, però ho già usato anche altri materiali, perché ho usato anche il carbonio, il carbonio è già stato usato comunque nell'arte, però non lo so. Perché sia un'arte tattile? No, perché sia colorata soprattutto. Ah, perché sia colorata? E anche tattile, sì. Però il colore deve esserci sempre, a meno che non sia un progetto di design, dove magari hai il bianco, il nero, il rosso, dove c'è un monocolore, insomma. Quando si vede il buio più profondo, è più facile poi riconoscere i colori? Se li hai dentro, sì. Sì, secondo me. Non è semplice, però è molto dura. Vuoi dirmi anche che magari chi ha a disposizione tutta la tavolozza, ma non la vuole vedere, continuerà a vedere buio, anche quando non è buio? Sì, sì. Io ringrazio Luca Moretto, ringrazio voi per aver visto e seguito questa puntata, una nuova, secondo me, espressione artistica, divertente, colorata e che mette di buon umore. Grazie, arrivederci a domani mattina. Grazie. 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 Grazie a tutti.